Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le quattro penne sono andate a Paciardi, Saraga, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla. Una cosa incredibile A te Cicca E la mente deve osservare molto Piascolo Andiamo a raccontarla Buongiorno